Polemica a distanza a Pescara fra maggioranza e opposizione sui 15 milioni del programma Qualità dell'Abitare destinati alla riqualificazione del capologo adriatico e che secondo il gruppo consigliare del Partito Democratico sarebbero a rischio. Una denuncia forte, quella del centro-sinistra, che chiama in causa la giunta Masci. Noi siamo molto preoccupati perché questa è la terza brutta notizia che arriva per il Comune di Pescara nel giro di poche settimane perché ricordiamo che qualche settimana fa il Comune si è piazzato molto in basso in un altro bando, quello per l'edilizia scolastica e mette a rischio ad esempio il progetto di riqualificazione della scuola di Via Montesiella. Poi c'è stata la bocciatura molto pesante del progetto Sport e Periferie con il progetto appunto del campo sportivo dei Giosuiti e adesso arriva a questo bassissimo posizionamento del Comune di Pescara al posto numero 246 su 271 per questo grandissimo bando. Siamo molto preoccupati perché ci auguriamo chiaramente che il progetto non è finanziato perché Pescara deve avere queste risorse ma se questo è l'approccio con cui l'amministrazione si pone verso il PNRR siamo molto preoccupati per la capacità di questa giunta di intercettare finanziamenti esterni al bilancio che sono in realtà decisivi per il futuro di Pescara. Parla di fake news invece l'amministrazione comunale con l'assessore Luigi Albore Mascia che risponde per le rime al centro-sinistra spiegando che nessun euro andrà perso per la riqualificazione della città. Intanto dico che non mi appartiene la logica del tanto peggio tanto meglio che fa un po' di vecchia politica cioè dire ma l'amministrazione rischia di perdere i fondi e quindi diciamolo a tutti così siamo contenti e siamo più belli e più bravi noi. Non è così. Io credo che siccome in quei fondi erano compresi i progetti importanti per la città penso che anche al centro-sinistra stia a cuore il completamento del teatro Michetti credo che al centro-sinistra stia molto a cuore la riqualificazione delle periferie il completamento della riviera sud in quei 15 milioni di euro ci sono progetti che vanno a cambiare anche il volto della città e allora il rischio non c'è perché nel 2022 arriveranno fondi notevoli da parte dello Stato e dell'Europa attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza e siccome il nostro progetto era all'interno di quella graduatoria e quindi ammesso per tutte queste questioni che ho appena elencato e anche altre noi abbiamo ragionevole certezza che nel 2022 verranno ripristinati fondi di 400 milioni di euro che invece sono stati momentaneamente sottratti dallo Stato per una scelta di carattere politico-amministrativo e che quindi non sono destinati non solo a noi ma a tanti altri comuni come noi che avevano presentato progetti interessanti. Ci sarà quindi anche la riqualificazione del quartiere Rancitelli? Certo era ciò di cui stavo parlando ma non solo questo e quindi il nostro progetto sul ferro di cavallo ma anche il completamento del teatro Michetti, lavori importanti anche a Borgomarino Sud sono tante idee ma che devono essere sviluppate e che garantiranno alla città da qui a pochi anni un grande sviluppo in zone della città che necessitano di interventi di riqualificazione. Noi siamo molto tranquilli tant'è vero che io ho inserito quegli stessi progetti col finanziamento statale all'interno del piano triennale delle opere pubbliche che sarà approvato tra qualche settimana dal Consiglio Comunale.